La grande innovazione che sono stati adottati appunto sulla base dell'ultima normativa decreto sicurezza bis che dà la possibilità di dare un DASPO fino a 10 anni, quindi veramente molto pesante, e di applicare anche dei nuovi divieti che fino ad ora erano stati, era possibile applicare soltanto alle misure di prevenzione personali quali appunto l'avviso orale, la sorveglianza speciale e quindi questo mette in evidenza la possibilità per il questore come autorità appunto di pubblica sicurezza di adottare misure di prevenzione sempre più incisive, più importanti per liberare poi dalla criminalità insomma anche le curve dello stadio. Quello di non poter usare nessun tipo di apparecchio cellulare o comunque di telecomunicazione, poi ve ne sono anche altri, anche quello di non poter usare nessun tipo di arma neanche a bassa capacità offensiva o arma giocattolo insomma o spray ad esempio al poperoncino ecco, è tutta un'altra serie di divieti. In teoria non potranno vedere la partita.